Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare The Queen's Gambit, serie di grande successo uscita su Netflix e trasposizione in board game, in gioco da tavola, a cura di Asmode Italia, che io ringrazio di cuore e immensamente per la copia fornita. Un gioco veramente molto interessante e che farà la felicità di molti che hanno seguito e apprezzato la serie televisiva, ma anche e soprattutto di giocatori di scacchi, perché è un gioco competitivo veramente veramente interessante e con tre pagine nemmeno, due e mezzo di regolamento. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. The Queen's Gambit, il gioco da tavolo, edizione italiana a cura di Asmode Italia, ci vede nei panni di un giocatore di scacchi che, come la protagonista della serie Beth Harmon, dovrà riuscire ad organizzare le proprie tattiche e soprattutto prevedere le mosse dell'avversario per vincere la partita a scacchi. Infatti, in questo gioco abbiamo la scacchiera, ma non è una comune partita a scacchi, perché sarebbe stato inutile fare un gioco con le normali regole degli scacchi. E è molto interessante perché si può giocare fino a quattro persone, laddove inizialmente verrà pescata una carta di setup, che ci farà vedere come si tappare tutte quante le pedine sulla scacchiera e gli angoli dove noi dovremo partire. Ognuno di noi avrà un gambetto colorato, che è praticamente una specie della pedina della regina, per farvi capire, e questo gambetto si potrà muovere in tutte le posizioni e direzioni come se fossero praticamente le quattro pedine principali, le maggiori del gioco delle scacchi. Quindi potremo muoverlo a L come il cavallo, in diagonale come la regina, di quante caselle vogliamo, in tutte le direzioni, ma soltanto di una casella come il re e così, e la torre ovviamente, orizzontale e verticale. Però potremo fare questi movimenti soltanto giocando delle carte. All'inizio pescheremo una mano di carte, avremo queste cinque carte in mano, e dovremo sceglierne tre e mettere sul tavolo davanti a noi, sotto la scacchiera, ognuno nel proprio lato. Il gambetto sarà sulla posizione dove l'abbiamo lasciato e quando tutti e tre i giocatori avranno messo le loro carte, inizieranno le mosse, perché il giocatore girerà la carta più alla sinistra, la sua, si vedrà qual è la mossa che deve fare, e lui farà la mossa. E gli altri giocatori poi potranno fare la loro prima mossa, che fungerà un po' da contromossa fondamentalmente. Quindi il setup che avete fatto di queste tre carte, non solo non le potete scoprire per ricordarvi, farvi vedere un po' cosa avevo messo nella seconda, perché è tutto un gioco di memoria, come la protagonista della serie, vi ricordate che ci pensava, le vedeva addirittura nel soffitto e in quant'altro, è tutto un gioco di ricordi e di tattiche. Quindi dovete vedere come si sta muovendo il vostro avversario per girare la carta e andare a bloccarlo oppure a fare una mossa, perché se con quella carta voi volevate andare a mangiare, perché le pedine sul tavolo non si muovono sulla scacchiera, si muovono soltanto i vostri gambetti. Quindi se voi volevate andare a mangiare con la mossa che avete fatto, ma il vostro avversario vi ha anticipato, perché magari era prima di voi in turno, quella mossa fondamentalmente va sprecata. Non c'è la possibilità di mangiarsi i gambetti fra giocatori, ma con i gambetti potete soltanto mangiare le pedine che sono sul tavolo, e non vi potete scavalcare o passare oltre. Quindi se andate a picchiare contro una pedina o contro il gambetto di un altro giocatore, praticamente la vostra mossa finisce lì. Avete queste carte che una volta messe in tavola, dovete ricordarvi a mente cosa potevano fare. Quindi dovete sempre organizzarvi con tre carte delle cinque che avete in mano, e dopo aver giocato queste tre carte ne dovete pescare un'altra, affinché la vostra mano sia sempre di tre carte. Fondamentalmente ragazzi, regolarmente tutto qua e vince chi mangia più pedine e fa più punti. In conclusione, questo Queen's Gambit è un gioco semplicissimo, infatti da 12 anni in su, è una partita dura 15 minuti, come riportato sulla scatola, da 2 a 4 giocatori, perché in solitaria non si può giocare, non esistono gli scacchi in solitaria, ma è bellino. È una variante piacevole, versione light degli scacchi, che non vuol dire che è più facile. Vi metterà comunque a dura prova, perché le mosse che dovete fare sono tre. Mi viene un po' in mente Colt Express, come gioco a carte coperte, è molto simile a questo come idea, e con queste tre mosse che avete messo, non solo dovete organizzarvi la vostra tattica, ma dovete anche ricordarvi come l'avete messa e in che ordine, perché se magari parlate una svista, pensate a qualcosa, e perdete la cognizione delle carte che avete messo coperte in tavola, come setup delle vostre azioni, poi le mosse vengono un po', cioè non vi ricordate qual è la mossa dopo, e potrebbe essere un errore, capito, a livello di tattica. Quindi è un gioco di attenzione, e secondo me è un gioco che questo, ancora una volta, lo potete mettere in tutti i tavoli. Io ringrazio ancora una volta Asmod Italia, per la copia fornita, gioco veramente interessante, veloce, bellino, immediato, costo ridotto, va bene messo in tutte le tavole, quindi di qui davvero col nonno, con la nonna, col nipotino, con la famiglia. Se lo volete acquistare, primo link in descrizione, e in sovraimpressione, dal nostro negozio sponsor, gioco libreria Simola, al miglior prezzo sul mercato, e ricordatevi, per qualsiasi acquisto, usate sempre il codice sconto, il codice discount, Coridan 7, per avere uno sconto del 7%, e se superate la spesa di 79 euro, spese postali gratuite, in tutta Europa. Se il gioco lo trovate in lista, ma è finito, esaurito, quindi sul sito non c'è più, o non c'è proprio nel catalogo, mandato una mail al supporto, e fate presente a Corrado, il proprietario della gioco libreria Simola, che arrivate dal canale di Coridan, lui farà il possibile, per trovarvelo, ovviamente nei giochi, che non sono fuori produzione, ormai da anni, ma questo è uscito da poco, quindi si trova facilmente. Ragazzi, fatevi sapere cosa ne pensate, grazie ancora ad Asmod Italia, ed è un titolo, veramente veloce, e molto, molto, molto interessante. Ciao ragazzi, alla prossima!